Dopo aver mandato la tua application, aver scelto il corso all'università, ti starai chiedendo se c'è qualcosa che puoi fare per prepararti alla tua esperienza di studi all'estero. E posso dirti che sì, c'è qualcosa, c'è più di una cosa che puoi fare. La prima è sicuramente quella di iniziare a leggere in inglese il più possibile, non solo romanzi ma anche quotidiani, per esempio The Guardian, The Independent o se vogliamo anche quotidiani internazionali come The New York Times. Così da abituarsi al linguaggio specifico inglese e ancora di più abituarsi a sentire parlare di attualità, che è un po' quello che tratterai a prescindere dal tuo corso di studi anche all'università. Puoi anche decidere di comprare dei libri relativi alla materia che andrai a studiare. Quando io ho iniziato il corso di business avevo comprato uno o due libri dove davano le basi del business generale, quindi da un po' di risorso umano, un po' di marketing, un po' di finanza. Così ho potuto veramente sviluppare un vocabolario della materia specifica, perché comunque venendo da un liceo scientifico non avevo tutte quelle parole neanche in italiano e tutti quei termini relativi al mondo dell'economia e del business. Una seconda cosa che puoi fare è un corso gratuito come Coursera o come anche Google Digital Garage, che sono dei corsi che ti fanno sviluppare comunque delle skills che saranno sempre utili anche a livello lavorativo, da utilizzare la piattaforma di Google al marketing, anche video più generali. Per esempio per Coursera c'è il corso di foundation di business dell'Università della Pennsylvania, che è completamente gratuito, ha circa 20 ore di lezione, quindi ti abitui ad ascoltare un professore che parla con, di nuovo, termini specifici, madrelingua magari, e ti abitui a iniziare a prendere appunti, a familiarizzare col vocabolario e con la modalità anche di insegnamento universitaria. Infine un'ultima cosa che è veramente importante è mettersi in contatto con altri studenti internazionali, sia italiani ma anche in generale inglesi oppure dell'estero. Questo ti permetterà di conoscere un paio di persone prima di arrivare nel campus per la tua fresher week e di iniziare a capire anche che si è un po' tutti nella stessa situazione, non si vede l'ora di fare amicizia, non si vede l'ora di vivere questa esperienza all'estero. Puoi metterti in contatto con gli studenti tramite i gruppi organizzati dall'università o i gruppi su Facebook, ed è così che io ho conosciuto la mia migliore amica dell'università, che è stata la prima persona che poi ho visto una volta arrivata nel campus. Se vuoi maggiori informazioni sulla fresher week, la settimana introduttiva, ti consiglio di guardare questo video qui.